sono di nuovo qui umano alzati non è un buon modo di salutare la tua padrona vero bene 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 ho una buona notizia per te mi sono stancata di tenerti in questa cella non fai niente tutto il giorno e ti do da mangiare è molto più di quanto meriti ti ho chiesto di farmi notare il fatto che non sei venuto qui spontaneamente quante volte ho bisogno di metterti al tuo posto ancora una volta sei fortunato che fossi affamata avrei potuto romperti qualcosa invece certo posso ancora farlo se mi fai arrabbiare di nuovo altre lamentele no ottimo ora come stavo dicendo da adesso in poi non languirei più nelle mie segrete sei stato bravo a intrattenermi a volte perfino divertente ma è il momento di guadagnarti il mantenimento solo perché hai fatto tutto ciò che ti ho detto di fare finora non significa che non possa cambiare idea domani potrei decidere che sei troppo fastidioso e tu saresti eliminato velocemente e dolorosamente forse e no non protestare ricorda il tuo giuramento la tua padrona è giusta e le obbedirai qualunque cosa accada quindi vuoi sapere cosa farai d'ora in poi non ancora c'è un tempo per tutto per ora concentrati sul vestirti questi sono dei vestiti decenti per te qualunque cosa avessi prima non è altro che un fascio di straccio di straccio ora è appena sufficiente per coprire la tua intimità ed è una cosa che deve essere fatta nel miglior modo possibile non che voglia vederti nudo dopo tutto troppi anni so come sia il corpo umano e mi sono un po annoiata il sangue d'altra parte non è qualcosa di cui ci si stanca semplicemente ti lascio vestirti torno tra un attimo e farei meglio ad essere pronto per allora eccellente finalmente vedi cosa ti porterà ad essere punito apprezzo il fatto che tu non mi costringa a sprecare la mia preziosa voce per darti semplici istruzioni hai finito molto bene sembra che tu sia riuscito a vestirti appena in tempo questo ci permette di andare avanti con il resto del programma seguimi fuori da questa prigione cosa c'è sì quell'altro è proprio inutile lui non viene con noi non chiedermelo di nuovo eccoci questo è un corridoio del castello sì è decisamente più grande di quanto pensassi e siccome ti senti così intelligente dimmi il castello si tiene in ordine da solo o deve essere pulito non pensavi davvero che avrei usato la magia per tenerlo in ordine vero certo potrei ma gli incantesimi non materializzano le persone lo sai è una vita senza persone senza i loro piccoli intrighi per ottenere persino un piccolo vantaggio l'uno sull'altro sarebbe così noioso che probabilmente fare esplodere l'intero castello per la noia non vuoi che ti mostri tutta la mia potenza se piangevi come un bambino quando ti ho spezzato il braccio non riesco a immaginare quanto saresti irritante infantile se ti mostrassi dei fuochi d'artificio ora smetti di fare domande potreste aver capito che lavorerai qui da ora in poi ci saranno anche più persone alcuni di loro sono umani come te che si sono dimostrate ubbidienti e degni di essere tenuti qui vivi li aiuterai a mantenere il castello in ordine e dal momento che sei il nuovo arrivato mi aspetto che tu obbedisca ai loro ordini proprio come esegui i miei è chiaro bene sì ho detto che alcuni di loro sono umani molti di loro non lo sono sono semplicemente creature subordinate che ho catturato o evocato da regni magici folletti fate orchi c'è persino un elfa rompere la sua volontà è stato sublime gli elfi sono tipi orgogliosi e non si piegano facilmente mi ci è voluto quasi un anno intero ma alla fine sono riuscita a metterla in ginocchio sentirmi chiamare padrona da lei è sempre un piacere immenso sì certo che è più divertente di te un elfa orgogliosa una delle creature più magiche del mondo che lotta per contenere il suo ego quando parla con me e so della sua lotta il suo istinto le urla di spezzare le catene e sfidarmi ma la sua esperienza le insegna che la resistenza è inutile con me non è mai stata in grado di sconfiggermi e lei non lo farà mai non importa quanto duramente ci provi è così divertente eppure c'è qualcosa di peculiare anche in te penso che sia il tuo sangue è così caldo dolce e mi fa sentire una rabbia repressa che minaccia di bruciare tutto il mondo se dovesse scatenarsi ammetto che questa prospettiva è divertente e mi piacerebbe vedere più cose di te in futuro ma per ora basta non posso ancora dirti tutto non è ancora giunto il momento devi ancora dimostrare il tuo valore servo prima di lasciarti le tue pulizie però voglio che tu venga in questa stanza non preoccuparti non farò niente di troppo dannoso per te entra ora non farmi aspettare bene mio piccolo servo obbediente ora togliti la camicia ho appena detto che non farei nulla di troppo dannoso sono una vampira di parola fallo eccellente quell'ostacolo è stato rimosso ora vieni qui e mettiti in ginocchio davanti a me mentre io mi siedo sulla mia poltrona un po più vicino hai ancora un profumo gradevole ma un bagno lo migliorerebbe sì sì il tuo sangue è ancora il migliore no l'ho già detto prima hai un sangue notevole forse anche il migliore sì no non devi pensare che riceverai ulteriori complimenti da me ora rimetti la camicia prima che il tuo sangue si scaldi abbastanza da farti prendere fuoco segnala dariel l'elfa ti dirà cosa fare esattamente adesso vai ho degli affari è tale importante di cui prendermi cura dice che